www.liberi.tv ma ha concesso una parte di privilegi che sono stati, normalmente sono riconosciuti ad altri in funzione di chi amano, ecco noi vogliamo dire che noi puntiamo qualcosa di più, puntiamo ancora ai diritti perché i diritti vengono riconosciuti non solo come i privilegi che possono essere tolti in qualunque momento. Quindi uguaglianza giuridica dinanzi alla legge di tutte le persone? Tutte, senza alcun tipo di distinzione anche perché è quello che dice la nostra Costituzione, è quello che hanno detto le corti europee, è quello che hanno detto la legge europea ed è la direzione verso cui tutti i paesi civilizzati di cui noi diciamo di fare parte stanno andando, quindi sì vogliamo quello. E' il caso di dire, certi diritti? Speriamo che siano tutti i diritti. Grazie, buona manifestazione. A voi, ciao.